Mi chiamo Giuliana, vivo a Corsico, sono una mamma di tre ragazze, adesso sono anche nonna da tre anni, ho una nipotina di tre anni e uno di due. Io ho una ragazza che ha 28 anni, non riesce a trovare lavoro, lavoro un mese sì, un mese no, sai, di questi contratti a termine che la famiglia è normale, finché si può, cerchiamo sempre di lavorare, ma ultimamente è diventato molto più difficile, finché il lavoro andava bene, andava tutto bene. Mio marito ha una sua ditta, il muratore piastrellista in bianchino, con la pandemia non è che ti chiamano ad andare dentro a fare i lavori. Io ho sempre fatto le pulizie perché ho dato precedenza alla famiglia, quando erano piccoli i bambini facevo i miei lavoretti nell'orario che loro erano a scuola. Un po' si si tira ancora un po' di più la cinghia e alla speranza ci sono arrivata dopo un po'. Quando proprio si era al limite, non ho mai raccontato che vengo alla speranza, forse a qualche familiare intimo, ma neanche a tutti. Perché ho paura che non capiscono, non so perché. Essere al limite vuol dire non avere i soldi per andare a fare la spesa. Io arrivare a un giorno e dire non ho niente da mangiare, ai figli no. Non è che è scattato qualcosa, non è che c'è un preciso momento, è che da quando è arrivata la pandemia, che uno ha cominciato a vedere la gravità della situazione, comincia questa testa ad affollarsi di pensieri, di pensieri. Non dormivo neanche più la notte, non riuscivo a dormire. Le mie figlie non hanno detto niente, solo la piccola che poi ha fatto i 18 anni quest'anno, la prima volta che dice, beh allora mamma siamo proprio poveri poveri, ci sentiamo la speranza, così ha detto.